Musica Ah, essendo noi alle falde del Kilimanjaro Para ponzi ponzi po No, ma stanno morendo tutti gli stoffini Resisti Resisti Non morire Anche tu Maledetti Chi vi ci ha portato qua ragazzi? Qua fa freddo Comunque c'è una cosa che C'è un dubbio che mi tormenta Dall'inizio di questo gioco Ma sono io troppo sensibile O questo è un pugno da comunisti E no Non posso neanche vendere il gioco Scherzavo ovviamente Saluto tutti i comunisti che ci stanno seguendo Adesso serve a qualcosa allora Se stiamo vicini ci ricarichiamo l'energia Sibila un vento furioso che spezza le fiamme e tutto trascina qua e là Ma nonostante il ciclone la nostra battaglia non si fermerà Durante le raffiche di vento dobbiamo nasconderci Intanto qua sta sollevando il manto innevato come fosse un tappeto O è voluta questa cosa o mi sa che è proprio voluta questa cosa qua Andiamo baby che è finito il ventaccio C'è 28? 29 e 30 a casa Una barzelletta che non ho mai capito Mai Non ha senso Cioè non ha senso questa barzelletta qua Andiamo 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 Ricordate che io sono sempre quello di destra con la sciarpa più lunga Ancora tu? Ma non dovevamo non vederci più? Ehm Scerpa Forza Andiamo avanti Non molliamo Qua non si molla un cazzo Oh Ah bravissime Abbiamo acceso la stufa E si sono risvegliati gli amici stoffini Andiamo avanti E si sta congelando la stoffa Una luna E di nuovo quel maledetto che mi stava facendo secco Grandissimo figlio di puttana Mi ha lacerato la sciarpa quel brutto figlio di puttana Ma dove dobbiamo andare qua? Intanto il crescendo qua di questa musica mi sta mettendo un'angoscia infinita Io rivolgo la mia sciarpa Bene signori ho perso la mia sciarpa per sempre Avevo una bella sciarpina Adesso non ce l'ho più Andiamo avanti qui nell'algido velo Qualcosa nello stomaco e nell'intestino Mi dice che tra un po' Sta venendo fuori un altro brutto figlio di puttana Intanto cos'era sta scossa Cerpa Te l'ho detto ce l'abbiamo alle spalle Siamo salvi Siamo quasi salvi Siamo salvini Abbiamo raggiunto un passo Siamo riparati dal freddo e dal vento Dal vento si dal freddo no Quindi Che minchia vai dicendo Mi scaldiamo qua Beh a quanto pare Io ho perso Tutta la capienza dei miei poteri magici Per sempre Continuiamo a salire su Sul versante di questo monte Ma dove siamo Siamo su una specie di camminamento Di una vecchia fortezza Continuiamo ad andare avanti Perché finirà sto livello no Perché devo anche andare avanti io eh Mi chiedo cosa succederebbe Se Mi librassi in volo Col vento Col vento contro Prepariamoci dalla folata Ma porco della buttana Abbiamo raggiunto invece una specie di Eccoci qua Ritornati Sempre sulle fade Le chili mangiaro O non so quale cavolo di montagna Si Scaglia davanti a noi Ma noi resistiamo Fino alla fine Ecco E Non si indietreggia Di una virgola Non si indietreggia Madonna questo gioco ti dà un senso di solitudine E di assolutismo L'avrò detto nel primo video Nel primo episodio di questa serie Ma Lo ripeto 5 euro e 50 Ma dal primo all'ultimo centesimo valgono Assolutamente yes Ricorda tutti i nostri follower Se anche a te Sergio Che so che ci segui Che molto presto usciranno A questioni di giorni E usciranno anche Uscirà un nostro video Sulle offerte del mese Riguardo all'edizione Alle offerte del PSN A 100% digitale Digitale Non digitale Come avete sentito nel primo video Digitale Non digitale Intanto sembra a me Che sta diventando tutto sempre più bianco Dovrei invitare il caneda A giocare Qui con me A journey Tutto bianco Attenzione Che succede? Lo stiamo perdendo? Quando va via la musica di colpo Non è mai un buon segno Finirà qui il viaggio? Cosa succede Pupo? Vai avanti Per favore Che ti capita? Puoi farcela Ce la puoi farcela Vai avanti Non mollare Quando è che ce la faccio? Ho capito Ok No Che succede? No Sono morto così? Ok Pare che ci stiamo riprendendo Ho visto tra un consiglio di saggi Il reparto terapia intensiva Ah Ma è l'edit? Saluto tutti i fan di New Genesis Evangelion Capiranno la battuta? Ah sono il papa e i suoi amici Il papa di questa Se non si è capito niente di questa Aspetta mi hanno restituito la sciarpina Oh mio dio Oh mio dio Ma è fantastico la mia sciarpina Addirittura Oh madonna Non pensarci nemmeno Non pensarci nemmeno Volevi Volevi Eh volevi fregarmi Guarda che faccia Non se lo aspettava Eccosi qua Sono arrivato quasi in cima Madonna Finisce un livello con una musica fantastica E comincia un atto con una Con una colonna sonora ancora più epica Sono contento perché mi ha restituito la sciarpina In tutta la sua lunghezza originale Che tanto mi sono impegnato A craftare Magari riprendo l'edit Quando avrò trovato battute migliori Saliamo su E via per il ponte Ponte Lascia passare le persone un ponte Collega modi di pensare un ponte Chiedo solamente un ponte Per andare andare La canto io perché se metto la versione originale Non mi permettono di monetizzare il video Ho notato che la cosa più difficile Quando si edita un video Non è tanto cercare la colonna sonora E Accertarsi al 100% Quella colonna sonora che metterai Sia totalmente Royalty Free Perché se no son Uccelli per diabetici Tradotto cazzi amari Una fiumana Magari c'è anche un arcobaleno Con un leprecano alla fine Che dite Altre meduse Più che un viaggio Questo gioco sembrerà un sogno Però veramente Tutto ciò è spaziale Attenzione Attenzione il leviatano Però quello buono Quello fatto di stoppa Grazie a tutti A presto A presto Grazie. Sono arrivato in cima, finalmente! Ce l'abbiamo fatta! Attenzione, ce l'abbiamo fatta, incredibile! Incredibile, ce l'abbiamo fatta! Allora, la sciarpa è sparita. Non capisco perché. Sta cominciando a camminare, nonostante io tenga premuto a fondo la levetta analogica. Vuol dire che sta succedendo qualcosa, ma non so dirvi cosa. Allora, ormai andiamo avanti! E cosa c'è qua? A un passo dalla fine. Solo luce alla fine. E dove va? Ehi! Ma vuoi lasciarmi qui? Ma guarda un po'. E' finito così. Ricomincia da capo. Quindi quella stella cometa che abbiamo visto all'inizio, eravamo noi. Fire engine. Ah, e qui mi dice di ricominciare il viaggio Bene Siamo tornati appunto di prima Questo era Journey Un videogioco spettacolare Vi consiglio ancora una volta 5,50 euro fino al 4 di agosto Sono soldi ben spesi Ogni tanto dobbiamo pensare anche alla grafica E basta venire Invischiati in In gameplay All'inizio entusiasmanti ma sempre uguali O trame che alla fine Si assomigliano tutte Ogni tanto facciamo godere un po' anche gli occhi Vi ringrazio Per l'attenzione Come sempre mettete un like Un bel commento per farmi sapere Se la serie vi è piaciuta E noi ci vediamo al prossimo video, ciao E noi ci vediamo al prossimo video, ciao